Una giornata interamente dedicata ai più piccoli, ma non solo, è la festa dei bambini del Calcit in programma per domenica 5 marzo all'Arezzo Fiere Congressi. Abbiamo pensato di abbinare all'ultima giornata del mercatino in danza, questa giornata dedicata ai bambini. I bambini li facciamo divertire, li facciamo giocare e alla fine cerchiamo anche di far veicolare dei messaggi di educazione civica, di corretti stili di vita. Tante le associazioni di volontariato e i privati coinvolti, uniti dall'obiettivo di creare una futura comunità ricca di elementi sani di condivisione, partendo appunto dal nostro futuro, i più piccoli. Arezzo sta dimostrando in questi anni di essere capace di fare una rete, una sintesi che costituisce una comunità. Quindi i messaggi sono chiari, vengono da persone credibili, vengono da esperienze vere e creano un contesto di collaborazione vera. Molti temi che verranno affrontati grazie a laboratori didattici che compongono un ricco cartellone su corretti stili di vita e salute. Questo momento è anche importante, forse quanto ancora più del solito, essere presenti su un ragionamento che parli di corretta alimentazione soprattutto per i bambini, perché siamo in un momento molto complicato, molto difficile in cui le grandi multinazionali cercano di valorizzare e dare peso al multiprocessato, che è una delle battaglie che stiamo cercando di vincere. Non mancheranno poi il divertimento e le sfide grazie agli infermieri aretini. Faremo delle gare di massaggio cardiaco a cui metteremo in palio dei premi e premi educativi, ma la giornata si svolgerà con tantissimi laboratori e soprattutto tantissime tematiche, a partire dal diritto del minore, al bullismo, ad altre tematiche che riguardano le famiglie purtroppo sia nella fascia piccola di età, ma anche nella fascia di adolescenziale.